benvenuti a tutti e ben ritrovati amici della Trading Room in questa sessione torneremo a parlare dopo qualche mese di Beyond Meat per vedere i possibili sviluppi futuri e ovviamente come sempre anche delle possibili operatività poi da fare sopra questo titolo ma prima di tutto spazio alla sigla delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su youtube unisciti al nostro grido i miei soldi li gestisco io quando parliamo di Beyond Meat ci tengo sempre a spendere due parole per spiegare a chi magari non conoscesse il titolo di che cosa stiamo parlando stiamo parlando fondamentalmente di un'azienda che si occupa della produzione della vendita di carne che carne non è che cosa intendo dire intendo dire che a tutti gli effetti sembra della carne il sapore molto simile a quello della carne ma è capitato anche di provarlo quindi diciamo che parlo a ragion veduta però è fondamentalmente una carne sintetica cioè creata dall'estrazione diciamo di proteine vegetali qual è la grande differenza rispetto ad altri tipi di carne vegetale che sicuramente a tutti negli anni sarà capitato di vedere nei supermercati gli hamburger vegetali ma che non sono nient'altro che hamburger fatti di magari ceci piuttosto che fagiolini patate eccetera compressi insieme e piazzati là questo invece ha tutti gli aspetti l'odore il profumo il sapore della carne quindi per questo motivo può essere una grande rivoluzione per due motivi prima di tutto per tutti coloro che per ragioni etiche o di qualunque tipo non mangiano carne che chiaramente possono diciamo soddisfare ecco questa mancanza anche tramite questo tipo di carne questo tipo di hamburger che principalmente parliamo di hamburger e secondariamente ma dal mio punto di vista ancora più importante anche da un punto di vista di sostenibilità perché gli allevamenti intensivi sono la prima causa diciamo relativa all'inquinamento a livello proprio mondiale e quindi ridurre diciamo un po' gli allevamenti intensivi a fronte di queste nuove soluzioni può dare anche una mano proprio a livello di sostenibilità che è un tema sempre molto importante a cui in tanti sono sempre più attenti come potete vedere Beyond Meat si è quotata oramai parliamo del maggio del 2019 quindi sono due anni e mezzo ad un prezzo di quotazione circa 45 dollari ha avuto un exploit nel giro di qualche mese perché a luglio è arrivato addirittura quasi a 250 dollari poi abbiamo visto diciamo un rientro a 75 un su e giù negli ultimi mesi e poi a partire diciamo dal esattamente un anno fa dal gennaio del 2021 quando ha tentato vedete questa questo ritorno sui massimi a 225 poi praticamente piano 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 nel giro di un anno è ritornato quasi sui livelli della quotazione iniziale nel senso che adesso siamo sui minimi a 59 il minimo toccato nell'ultimo periodo è stato 53 ma quello che è utile capire è quelle che sono le possibilità future di questo titolo perché è vero che può rappresentare una rivoluzione ma è anche vero che a differenza di altri titoli se vogliamo growth non è stata fino ad ora diciamo capace di veicolare un messaggio come ad esempio ha fatto molto bene Elon Musk con Tesla e quindi siccome questo messaggio non riesce tanto a veicolarlo sta facendo delle partnership che stanno dando degli ottimi risultati pensate che ha avuto un accordo verso la fine dell'anno scorso con alcuni punti vendita americani di McDonald per inserire all'interno delle proprie proposte ecco di menu anche un panino che si chiama McPlant che è a tutti gli effetti fatto con hamburger proprio prodotti da Beyond Meat questo dopo il primo test è andato molto bene adesso tra febbraio e marzo questo test verrà ampliato a 700 punti vendita in tutti gli Stati Uniti e se tutto verrà confermato come sembra essere arriverà su scala nazionale nel 2023 e tutto questo pensate solamente con i 700 punti vendita potrebbe portare un ulteriore income per quanto riguarda Beyond Meat di 200 milioni di dollari se dovesse andare su scala nazionale potete immaginare si parla di miliardi perché McDonald comunque negli Stati Uniti sono tantissime migliaia di punti vendita oltre a questo siccome come dicevo ha un problema ecco dal punto di vista se vogliamo proprio del marketing questo questo marchio ha deciso di fare un ulteriore partnership anche con Pepsi tant'è che proprio in queste settimane stanno uscendo i privi snack basati proprio sui prodotti di Beyond Meat e commercializzati da Pepsi Cola che ovviamente ha un apparato marketing molto molto migliore rispetto a quello che potrebbe essere di Beyond Meat e quindi in virtù di questo sicuramente ha delle buone prospettive di crescita futura considerando anche i prezzi attuali ora i maggiori analisti danno al momento un target in area 75 dollari che dai 60 dollari attuali si parla di un 25 30 per cento di crescita possibile ovviamente questi sono titoli a tenere in portafoglio più per il medio lungo periodo e possibilmente senza investire delle grosse cifre comunque parliamo di titoli growth non di titoli value alternativamente stavo anche guardando con le opzioni vedete come la volatilità si è alzata siamo su livelli molto alti ecco rispetto alla media degli ultimi anni come possibilità c'è anche quella di andare a fare una strategia bull put con scadenza aprile eccolo qua con strike 40 quindi vendere la 40 e coprirsi con la 35 paga come minimo una cinquantina di dollari con un contratto a fronte di un margine di 450 quindi parliamo di un rendimento di un 11 per cento in 73 giorni quindi se vogliamo stare più tranquilli ecco questa potrebbe essere una buona alternativa visto che ci troviamo addirittura al di sotto dei minimi della quotazione di beyond meet quindi un titolo sicuramente da tenere sott'occhio anche per via delle ultime discese anche gli analisti lo stanno tornando a raccomandare e quindi io vi aspetto tutti nel nostro trading club che teniamo il martedì per quanto riguarda le opzioni dove andremo per l'appunto ad approfondire anche questa dinamica anche beyond meet quindi se il video vi è piaciuto mettete un bel like condividetelo iscrivetevi al canale io vi ringrazio come sempre per l'attenzione ciao a tutti e alla prossima